Oggi in Exis parliamo di medicina estetica e vi presentiamo la nostra dottoressa Sara Verzegotti. Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti. Oggi vi presento il mio macchinario che si chiama APS. Questo è un macchinario di ultima generazione. È dedicato a trattare l'assità del volto, oltre che del corpo chiaramente, ha risultati immediati, vengono diminuite drasticamente le rughe della parte inferiore del volto e viene assolutamente migliorato il contorno occhi già dalla prima seduta. La paziente esce assolutamente contenta già dopo la prima seduta appunto e i risultati sono visibili subito. Vanno fatti almeno 4 sedute a distanza di 10 giorni per mantenere i risultati che poi rimarranno sul viso della paziente visibili per 6-8 mesi.